Beh, finalmente quest'anno è arrivato il parcheggio 2.0, quello che viene chiamato anche il primo parcheggio democratico, l'abbiamo inaugurato a maggio, il primo parcheggio con 150 stalli destinate alla mobilità elettrica a Genova, vicino all'acquario. È stato un progetto molto lungo che però ha permesso adesso di avere tutto il know-how e creare tutti i prodotti per condomini, parcheggi flotti e parcheggi interscambio. E' effettivamente le auto cambiano e anche le case delle auto devono cambiare, quindi tutti quelli che sono i parcheggi che oggi erano visti solo come un luogo di ricovero possono essere un domani un luogo di ricarica. Noi abbiamo ormai soluzioni integrate con sistemi di parking, con la parte flotte, col power management, con ricariche veloci o lente e quindi direi che anche sui parcheggi ci sarà qualcosa di nuovo relativa alla mobilità elettrica.